Buongiorno a tutti, è sabato 11 novembre Bene, ragazzi stiamo andando al mercato del pesce di Sapporo Guardate il sottopassaggio ragazzi Guardate che spettacolo, che bello è questo Cioè tu compri il granchio da questi qua E loro te lo preparano Hai capito? La riproduzione ragazzi è sempre straordinaria Non si è capito che qua il mercato gira sui granchi No, non si è capito ancora, è bestia Mi avevo chiesto due gamberi grandi Adesso ce li pulisce, ce li manciamo freschi, freschi E' bello! E' bello! Qui ti prendi Come? Grazie 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 Sì, vabbè, 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 vabbè. ti senti? è molto due due ti senti la faccia di sutra non è non è dolcissimo mamma se è buono oh mio dio buonissimo dovete fare questo dovete chiedere e lo preparo e aspettarlo mamma mia troppo buono mettiamo in ghiera una cosa questo è uno dei posti più gettonati al mercato di Sapporo parla un inglese non è un problema ma potete vedere anche dal menù non si capisce come stiamo andando ed è quello più consigliato per venire a fare questa esperienza tutto in colazione ora sono le 9 di mattina prima ci siamo mangiati il gambero adesso vediamo cosa mangiare è arrivata la colazione ragazzi da fuori è così ragazzi ok ok Grazie a tutti. raga trovate queste sono le mappe di come spostarsi sulle sotterranee la parte che vedete qua davanti c'erano tutti i negozi chiusi tutti alle 10 hanno aperto tutti nello stesso momento in 30 secondi ti giri e trovi tutti i negozi aperti sono più di 15 minuti che camminiamo sotto terra spettacolo raga è uno spettacolo c'è poi l'ufficio postale raga il ramen spettacolo base miso ramen con aggiunta di mais e burro a sciogliersi giusto perché il ramen è leggero no? che non ce lo metti a sciogliere il burro dentro giusto per dare quel tocco di colesterolo in più al piatto però è spettacolare costo 800-900 yen siamo tra i 7-8 euro più o meno dipende quando guardate il video poi fate voi il cambio perciò sotto i 1000 yen comunque 900 e qualcosa ci stava tutto ci sta cioè pieno pieno di ramen shop questo è uno dei tanti che potete trovare cioè ramen è una cosa però cercate sempre questa cosa tipica che è di qua del Hokkaido questa cosa tipica di trovarlo con l'aggiunta di mais e burro questa è stata fatta tipo 1 daore che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.